Finalmente approviamo lo statuto del Forum dei Giovani del Comune di Napoli, uno strumento che non c'è mai stato nella nostra città e che adesso potrà nascere e dare un'opportunità importante ai nostri giovani. Adesso abbiamo approvato lo statuto dopo una grande consultazione, questo statuto adesso andrà in Consiglio Comunale e dopo l'approvazione del Consiglio Comunale ci saranno le vere e proprie elezioni con delle liste che dovranno essere presentate con i candidati consiglieri che faranno parte appunto del nostro forum e di un candidato o di una candidata presidente. I partecipanti al Forum dei Giovani sono tutti coloro che risiedono nel Comune di Napoli e che hanno tra i 16 e i 35 anni, per le cariche elettive però bisognerà avere 18 anni, come una sorta di Consiglio Comunale con un'età inferiore appunto rispetto a quella dei nostri consiglieri comunali, quindi si riuniranno in commissioni così come proprio fa il Consiglio Comunale sulle tematiche che riguardano la nostra città e ci auguriamo che dal loro punto di vista anche con modalità magari più smart ci possano essere delle idee e dei contributi che appunto come previsto allo statuto una volta l'anno loro esporranno a tutti i consiglieri comunali della nostra città.